ciao a tutti sono nina dimitri io sono silvana gargiulo siamo qui per proporvi un nuovo progetto che sarebbe un cd già tanto tempo che non ho più fatto un cd e questa volta sarebbe un cd con canzoni inedite italiane composizioni proprie composizioni di silvana gargiulo ma non vuol dire che non canto più musica latino americano questo è dentro il mio cuore ma il cd sarà piuttosto in italiano le canzoni parleranno della vita parleranno dell'amore delle relazioni qualche qualche storiella anche inventata allegra solo lei mi conosce poi io sorrido alla vita e mi seduce e mi incanta Dio non so dirle di no come il fuoco che arde io non so stare più senza te perché tu sei la musica non so dirti di no è tutto come una band che spacca i sassi e sventola i capelli indietro esempio Mimmo Pisino il bassista che suona con stress ha suonato con Phil Collins il sundur tipo Collin eccetera eccetera c'è Thomas Eschbacher Eilov Emmental che suona l'organetto svizzero schvizzera che è un'eminenza svizzera e poi c'è Bernard Heberlin un bravissimo chittarrista che suona anche con cicca torpedo e poi c'è Luigi Galatti un batterista che spacca i piatti e poi c'è Daniel Perrin che fa anche arrangiamenti e suona bandoneon amant piano e fa arrangiamenti anche per tantissimi altri musicisti c'è Silvana Gargiulo con i cori ci sono io col ciarango con la chitarra e con la voz naturalmente ed è per questo che noi abbiamo bisogno del vostro sostegno perché per sostenere questa band internazionale abbiamo bisogno di pagarli abbiamo bisogno di pagare la sala la stampa del cd per esempio quello che mixa e muove tutti i vari bottoncini per rendere la voce e il suono a livello celestiale insomma abbiamo parecchie spese ma abbiamo anche per voi bellissime ricompense esempio un cd in anteprima per voi biglietti per i nostri spettacoli concerti privati eccetera tanto altro che potete leggere sulla lista che vedrete sulla pagina e di più potete trovare tutto quello che avete bisogno e volete sostenere e vi ringraziamo con tutto il cuore per il vostro sostegno e ci vedremo ci sentiremo molto presto Sì? Grazie davvero per unirvi a noi in questo bel progetto Baci! Ciao! Partiamo! Vai! Sì? Grazie per il sostegno Non ci dì, ve lo consiglio.